Curla martello, alternati. In piedi, gambe leggermente flesse, per scaricare il peso dei manubri sulle gambe, e non sovraccaricare la colonna vertebrale. Schiena diritta. Braccia distese lungo i fianchi, con impugnatura dei manubri in posizione neutra. Flettere l'avambraccio, mantenendo il gomito, il più fermo possibile. Ritornare in posizione di partenza lentamente, e ripetere il movimento con l'altro braccio. Ritornare in posizione di partenza lentamente, e ripetere il movimento con l'altro braccio. Errori comuni. 1. Uso del cheating, ovvero aiutarsi inarcando la schiena all'indietro, per facilitare la partenza del movimento. 2. Avanzamento del gomito durante la flessione. 3. Avanzamento del gomito durante la flessione. 4. V participazione del gomito durante i aumenti. 4. Aplondare in posizione di partenza del gomito durante i massivi.